Buongiorno a tutti, dichiaro aperta la seduta, iniziamo con il question time. Oggetto numero 9, risponde l'assessore Coletto, interroga il consigliere Bori. La parola al consigliere Bori. L'interrogazione che presentiamo è di luglio, però purtroppo dimostra come i problemi da luglio ad oggi sono rimasti invariati. Infatti le postazioni di 118 nei presidi di Todi e di Marciano, che sono a servizio della Mediavalle del Tevere, un bacino di 60.000 cittadini, devono essere potenziate e passare da H12 a H24. Questo perché? Perché l'ospedale di Pantalla viene riconvertito a ospedale Covid e quindi non sarà più, né disponibilità dei cittadini, la possibilità di accesso per il pronto soccorso, insieme all'annullamento di tutti i servizi presenti nel presidio ospedaliero. Il tema riguarda il servizio, quindi le postazioni di 118 che devono essere H24 con la possibilità di interventi rapidi, ma dipende e riguarda anche il personale. Infatti il personale del pronto soccorso c'è necessità di ridistribuirlo in questi presidi, in queste postazioni. Quello che fa effetto è che, pur essendo l'interrogazione di luglio, la situazione è ancora grave e non è stata minimamente risolta. Quindi l'interrogazione che rimane purtroppo valida riguarda questi due presidi e la volontà da parte della Giunta del potenziamento del personale, dei servizi, delle risorse, sia nei due presidi, Todi e Marciano, quindi la possibilità di rintrodurre servizi all'interno dei presidi di salute, sia per i punti di 118 e quindi la disponibilità di ambulanze automediche che devono garantire tempi di intervento adeguati anche nelle zone più periferiche. Grazie. Grazie, consigliere Bori. Do la parola all'assessore Coletto per la risposta. Grazie. Per quanto riguarda la questione ambulanze, do subito un'informazione che non è contenuta nella risposta, ma ovviamente stiamo potenziando. Stiamo potenziando in vista di che cosa? Di quella che è una pandemia che ha avuto un'evoluzione totalmente inaspettata da chi che sia. E questo non lo dico a livello territoriale, non dico del livello Umbria, ma dico a livello nazionale, oltre che a livello europeo. Basta guardare la televisione e sentire i telegiornali, oltre a leggere i quotidiani, uno si rende conto che non è solo in Umbria che accade questo, accade dappertutto. Noi stiamo tentando di dare delle risposte con delle risorse esigue che abbiamo trovato. Molto esigue. Abbiamo assunto 365 medici, fra infermieri, operatori sanitari e quant'altro. Direi che stiamo andando avanti, 365, mi correggo, fra medici, infermieri, operatori sanitari. Il dottor Borghi lo sa benissimo, quindi è una notizia ultronea che gli do, ma è pur sempre una notizia che tutti devono sapere. Ciò detto, stiamo attivando altre ambulanze da mettere al servizio di Pantale, non solo, visto e considerato che l'emergenza è un'emergenza impellente. Stiamo parlando di pandemia, non è un'epidemia, la differenza è sostanziale, la semantica lo dice. Quindi, per quanto riguarda il presidio a me, la Valle del Tevere, 26.10.2020, questa è la data della fotografia. L'orario dalle 8 alle 20 sono due postazioni infermieristiche, 118, ambulanza Todi a Marsciano. Numero 2, ambulanza 118, distanza presso il pronto soccorso di Pantalla. Un'ambulanza infermieristica per trasferimenti secondari, distanza presso il pronto soccorso di Pantalla. Un'ambulanza e un'automedica a distanza presso il pronto soccorso di Pantalla. Orario 20.08 della mattina, due ambulanze 118 a distanza presso il pronto soccorso di Pantalla, di cui una medicalizzata. Un'ambulanza in reperibilità per i trasferimenti. Si sta valutando la possibilità di estendere l'automedica anche di notte, dalle 8 di sera e di implementare ulteriormente l'ambulanza del volontariato per i trasferimenti. Le trattative sono attualmente in itinere ma chiuderanno a brevissimo con le croci. Risulta evidente un notevole potenziamento di tale servizio con una situazione comunque inferi in base all'andamento dell'epidemia. Quindi è costantemente monitorata e se servirà incrementare ulteriormente quelle che sono le risorse relativamente all'ambulanza o agli uomini, quindi infermieri, medici, operatori sanitari e quant'altro, di volta in volta faremo le valutazioni in tempo reale e incrementeremo. Grazie Assessore. Consigliere Bori. Grazie Presidente. Sul fatto che la seconda ondata fosse largamente inaspettata è la teoria di Salvini, non della comunità medica. Da sempre si dice che dovevamo utilizzare questi quattro mesi per preparare i servizi, cosa che non è stata fatta in Umbria, ma ci torneremo dopo. Per quello che riguarda le assunzioni, l'Assessore dovrebbe farsi mettere accanto al numero 364 assunzioni tra medici, infermieri, professionisti, anche quello dei pensionamenti. Scoprirebbe che il saldo è negativo. Sono andate in pensione più persone di quelle che avete assunto. Il sistema sanitario ha un organico ridotto rispetto a quando è iniziata la pandemia. Un altro errore, ma ci torneremo dopo. Per quello che riguarda il 118, la domanda era semplice e io la prego Assessore insieme ai suoi dirigenti di prendersene carico. La richiesta è che i due presidi che sono presenti a Todi e Marciano siano aperti H24. Ad oggi sono aperti solo 12 ore. La richiesta è questa. C'è la possibilità di farlo perché il personale del pronto soccorso di Pantalla non opera più, essendo chiuso il pronto soccorso è presente solo la stazione. Quindi la richiesta ha anche una soluzione, che è quella che le abbiamo appena sottoposto. Le aggiungo anche che dai territori viene un ulteriore suggerimento che io le faccio come le ho fatte più volte. I due presidi di salute possono ospitare dei servizi con il personale che ora non è operativo nell'ospedale di Pantalla. Allora, noi facciamo minoranza quando serve opposizione, ma sempre costruttiva. Solleviamo un problema e diamo delle soluzioni. Non ci avete ascoltato e parleremo dopo delle varie cose che non avete fatto, nonostante i nostri suggerimenti. Ad oggi le sollecito di nuovo, al servizio dei cittadini della Media Valle del Tevere, una delle criticità, non l'unica, una delle criticità sanitarie in questa fase. Le suggerisco una serie di ipotesi di soluzione. La prego, per una volta, che non rimangano inascoltate. Grazie, consigliere. Passo all'oggetto numero 10, interrogazione del consigliere Bettarelli. Trasporto pubblico di linea, adeguamento del piano di esercizio alle misure anti-covid. Risponde l'assessore Melasecche. Do la parola al consigliere Bettarelli. Grazie, Vicepresidente. Anche questa è un'interrogazione un po' datata, visto che le cose sono radicalmente cambiate. Un'interrogazione del 21 settembre, ovviamente poco dopo l'inizio della scuola, una settimana dopo l'inizio della scuola, e stante anche le ordinanze della Presidente Tesei e del nuovo DPCM, ovviamente le questioni possono sembrare superate. In realtà, a mio avviso, questa è un'interrogazione molto attuale che merita spiegazioni, intanto per capire cosa è successo e poi perché comunque il DPCM e le ordinanze hanno un tempo di decadenza dopo le quali tutti ci auguriamo di tornare alla normalità. Quindi credo che quello che sia successo nei giorni in cui le scuole hanno riaperto sia sotto gli occhi di tutti, un sistema scolastico che si è organizzato molto molto bene all'interno dei plessi scolastici, un sistema al contorno che, a mio avviso, ma ne sono testimonianza agli appelli, le foto, i video, i post dei cittadini e degli studenti, ha funzionato piuttosto male. Anche questo, credo che sia logica, di una improvvisazione e disorganizzazione spinta che si è verificata in questa regione su diversi settori, come quello sanitario a cui accennava il collega Tommaso Bori poco fa, anche nel settore del trasporto pubblico scolastico. Per cui la domanda che pongo per avere intanto risposta rispetto a quello che è successo, ma poi quello che, ripeto, succederà, mi auguro, di qui a breve, è il perché si sono verificati assembramenti sui mezzi di trasporto che portavano, quindi, in modo particolare, i ragazzi delle scuole superiori a scuola, quindi a fronte di un distanziamento e di una logica molto spinta e ben fatta all'interno del plesso scolastico. Tutto questo veniva vanificato e, probabilmente, non ho certezze scientifiche, ma probabilmente anche questo è una delle cause che ha portato a questi numeri così alti nella nostra regione, perché i ragazzi stavano spesso in piedi e spesso accalcati nei mezzi di trasporto per andare a scuola. Io di questo ho foto, testimonianze di persone che mi hanno sollecitato a più riprese su questa, appunto, questione e quindi vi chiedo, a fronte dei cento autobus che la Regione ha annunciato di aver aggiunto rispetto al trasporto pubblico di linea, in particolar modo sullo scolastico, qual è stata, se c'è stata, anzi, prima, se c'è stata, perché forse dopo è scontato troppe cose, se c'è stata una logica e eventualmente se c'è stata, qual è stata questa logica, per cui questi cento autobus, cento uno, se non ricordo male, dai comunicati stampa a firma Agabiti e Melasecche, sono stati aggiunti, come sono stati aggiunti, dove sono stati aggiunti, in quali territori e secondo quali criteri e modalità. Penso e concludo, rispetto all'Alto Tevere, da cui mi sono arrivate molte segnalazioni, mi risulta che nessun autobus dei cento aggiuntivi previsti per il trasporto, punto pubblico scolastico, siano stati implementati in un territorio, ma mi risulta poi che questo sia avvenuto anche in altre parti della regione, quindi se c'è stata una logica ed eventualmente quale è stata. Grazie, consigliere Bettarelli. Assessore Melasecche, lei le risposte. Innanzitutto smentisco categoricamente la sua affermazione, perché prima di parlare bisogna informarsi, prima di accusare occorre capire qual è l'argomento di cui parliamo, io sono disponibile a dare tutte le informazioni possibili e immaginabili, ma non accetto assolutamente giudizi da barra in un'aula come questa, in cui si fanno affermazioni destituite di ogni fondamento. Vengo al dunque. Lei ha fatto un'interrogazione che parla solo delle sue aree di interesse, poi ha ampliato notevolmente su tutto il giudizio a cui risponderò successivamente in altro momento. Io, questa mattina, al momento rispondo all'interrogazione, perché non si può cambiare strada facendo di fatto il testo dell'interrogazione chiedendo altre cose. Lei può far tutto. Il problema è che io ho solo tre minuti per rispondere e non posso dare l'informazione di dettaglio su tutto lo scibile umano del trasporto su cui lei è intervenuto. Cerco di andare velocemente. Nell'ottica di garantire una maggiore capienza per le corse finalizzate al trasporto di studenti, con il fine di tutelare la salute e la sicurezza dei passeggeri e di prevenire la diffusione della pandemia di Covid-19, in linea con quanto disposto dalla normativa e in particolare dall'allegato 15 dell'IPCM 7 settembre 2020, che prevede un coefficiente di riempimento di mezzi non superiore all'80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione di mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti, sono stati potenziati i servizi di trasporto pubblico programmati con autobus di supporto pari a 101 autobus aggiuntivi rispetto a 612 normalmente in circolazione. Gli autobus aggiuntivi messi a disposizione da Busitalia e dalle altre aziende e socie nelle tre SCARL, affidatari dei servizi di TPL, sono distribuiti secondo la seguente articolazione territoriale. Area Perugia 32, Area Terni 17, Gubbio-Gualutadino 2, Alta Valle del Tevere 4, zona Trasimero 4, zona Assisi 4, area Fuligno 11, area Orvieto 5, Todi a Viano Umbro 5, zona Marciano 2, Spoleto Valderina 9, Narnia Melia 6. Con particolari riferimenti all'Alto Tevere, i potenziamenti hanno riguardato i seguenti istituti superiori, Polo Tecnico Franchetti Salviani, città di Castello, Liceo Classico Plino il Giovane, città di Castello, International Campus Patrizzi Baldelli Cavallotti, città di Castello, tutte le sedi, Campus Leonardo da Vinci Umbertide. Per garantire il raggiungimento di tali plessi scolastici, sono stati immessi in servizio tre autobus di supporto. Per istituto di città di Castello, quattro, due provenienti da Sansepolcro, uno da San Giustino Nolama e uno dalla località Bosco per Umbertide. Durante le prime settimane delle attività scolastiche, l'adozione dell'orario provvisorio con un orario di uscita anticipati da parte degli istituti, ha reso necessario un adeguamento dell'esercizio con corse aggiuntive per Trestina, Promano e l'attivazione di cinque navette a città di Castello tra Piazza Garibaldi e il plesso scolastico. Inoltre è stata inserita una corsa aggiuntiva per l'orario di uscita delle scuole di Umbertide. L'adozione dell'orario semidefinitivo degli istituti dal lunedì 12 ottobre ha permesso di attivare gli orari di servizi programmati con la conferma delle cinque navette sul percorso Piazza Garibaldi, plessi scolastici e viceversa. Busitalia comunica che l'azione di regolare monitoraggio posta in essere dagli addetti del servizio sulle corse di TPL che servono gli istituti scolastici dall'inizio delle attività didattiche, conferma la costante osservanza delle disposizioni di legge e una distribuzione a bordo dei mezzi sostanzialmente omogenea per l'assenza di significative criticità. Per la parte delle domande a cui non posso rispondere, dato il tempo, risponderò successivamente. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere Bettarelli. Sì, ringrazio l'Assessore che dei tre minuti che aveva a disposizione uno l'ha usato per fare polemica, quindi probabilmente le informazioni che aveva non erano così rilevanti da essere citate. Comunque lo ringrazio, chiedo già da subito di poter avere la relazione che ha cialetto per ulteriori verifiche e quando lei mi manda la relazione io poi le manderò in via privata, via mail, le foto che mi hanno mandato i genitori dei ragazzi e siccome lei è un esperto ovviamente molto più di me, forse va meglio spiegato il concetto della carta di circolazione, per cui secondo la carta di circolazione possono far fede anche i posti in piedi. Quindi non giochiamo sulle ambiguità o sui tecnicismi, perché poi se vogliamo giocare sui tecnicismi delle persone che possono stare su un autobus all'80%, è evidente che in quanto sono i 54, quanti sono posti a sedere, più ci sono quelli in piedi. Quindi l'80% si calcola complessivamente, questo forse va meglio spiegato. Comunque credo che, ecco, avendo anche informazioni scritte e avendo dati certi, si possa operare al meglio e soprattutto in futuro. Quindi se, come dice lei, questi quattro mezzi sull'Alto Tevere sono stati aggiunti, io mi chiedo perché determinate tratte di cui ho evidenza che siano state, come dire, in cui i mezzi erano pieni, pieni, probabilmente vanno riviste meglio le tratte in base al numero di utenti. Grazie. Grazie consigliere. Passiamo all'oggetto numero 12, interrogazione del consigliere De Luca sull'assistenza a gravissime disabilità associate a malattia rara, encefalopatia epilettica causata da mutazione gene STAN1, 20 casi nel mondo, insufficienti risorse e sostegno da parte della regione. Risponde l'assessore Coletto e interroga il consigliere De Luca. Grazie Presidente, ma oggi voglio parlare di Andrea, questo bambino di otto anni che purtroppo ha avuto un destino veramente difficile. È nato con una tetraparesi dovuta a microcefalia, conseguenza di una mutazione di questo gene STAN1 che conta solo 20 casi conosciuti al mondo. In realtà, se andiamo realmente a vedere nel dettaglio dei casi come il suo, ce ne dovrebbero essere uno in Giappone e uno a Terni. In questa situazione lui è un bambino che vive e che cresce grazie al sostegno di supporto non permanente H24, ma durante la maggioranza delle ore del giorno attraverso l'ossigeno, attraverso quindi dei sostegni anche artificiali. I genitori di Andrea sono entrambi laureati, hanno iniziato ad affrontare questa salita, questo enorme percorso. All'inizio la mamma aveva totalmente rinunciato al lavoro, il papà lavorava di giorno e la notte rimaneva sveglio a sorvegliare Andrea. Poi sono riusciti ad ottenere un'assistenza infermieristica, supporto di OS, di operatori. Quindi fino a poche settimane fa riuscivano ad avere sostanzialmente l'assistenza notturna su cinque notti, avevano quindi 36 ore settimanali di assistenza diretta e poi avevano una copertura anche di 56 ore di operatori sanitari e un assegno mensile di 1200 euro con cui la famiglia, la mamma di Andrea, per poter riuscire a pagare ulteriormente assistenza, è andata al lavoro proprio per fare questo percorso. Io voglio uscire subito dalle discussioni perché già ho avuto una forma di risposta tramite mezzostampa. Qualcuno sostanzialmente ha voluto far capire che questa famiglia si trova in una situazione di privilegio. Io ho avuto diversi contatti, anche ieri ho conosciuto la mamma di Nicolò, ho conosciuto tanti altri genitori di persone che vivono questa esperienza. Addirittura mi è stato scritto che già la regione sborsa 100 mila euro per questo tipo di servizio di assistenza diretta. Ai genitori di Andrea è stato detto che il problema è sociale, non è un problema terapeutico, perché qui stiamo parlando di una rimodulazione di ore che ha sostanzialmente ridotto in maniera significativa quello che era l'assistenza notturna che veniva fatta ad Andrea. Andrea ha una tracheostomia, è alimentato tramite la PEG, ha bisogno di un'assistenza e di una continua, sistematica. E la risposta che sostanzialmente è stata data a questa famiglia in alternativa come soluzione è stata quella dell'istituzionalizzazione, ovvero l'ospis, ovvero reparti specializzati. Io credo che pretendo di avere una risposta politica. All'interno di questa assemblea sono state prese delle posizioni politiche chiare in merito alla libertà di scelta, in merito a progetti di vita personalizzati che andrebbero a risolvere questo tipo di situazione, mettendo al centro la persona e non più la burocrazia assurda in cui queste famiglie si trovano a vivere vincolate. Per questo io interrogo l'assessore Coletto per sapere se intenda in questo momento congelare questa decisione che poi ho saputo non ha interessato esclusivamente la famiglia di Andrea, ma ha interessato numerose famiglie in cui in questa rimodulazione del PAI sono state chiaramente messe in discussione tutto quello che era l'ordine e l'equilibrio che avevano queste famiglie. Quindi se intenda ripristinare con urgenza le 5 notti, mantenendo il nuovo monte ore dell'assistenza infermieristica di 64 ore, nonché ripristinare il monte ore degli operatori sanitari dalle 28 ore alle 56 ore come precedentemente stabilito, si intenda anzi aumentare le ore di assistenza diretta a disposizione delle famiglie come quelle di Andrea, colpite da una gravissima disabilità associata a malattia rara, in una condizione di totale impossibilità di movimento collegato discendibilmente a delle macchine che necessitano di assistenza H24, se in alternativa, così, in base anche alla discussione che avevamo avuto all'interno di questa Assemblea, intenda invece optare per un aumento dell'assistenza da 1.200 euro a 2.400 euro per garantire la dignità e i diritti costituzionalmente garantiti suoi e della sua famiglia, perché dormire, avere il diritto di riposare, avere il diritto di vivere anche per queste famiglie, è un diritto inalienabile, è un diritto umano. Assessore Coletto, a lei la risposta. Grazie. Questa giunta, insieme con la direzione regionale, come di consueto ha acquisito tutti gli atti la relazione che sul caso è stata redatta dall'Ulso Umbria 2, nella quale si sottolinea che l'azienda non ha operato alcuna riduzione nel monte ore di assistenza domiciliare, bensì una rimodulazione per migliorare il servizio di assistenza domiciliare al minore. Nello specifico vengono erogate 70 ore di assistenza domiciliare infermieristica contro le 36 passate, inoltre vengono erogate 28 ore settimanali di OS. L'obiettivo della rimodulazione con l'aumento dell'assistenza infermieristica deriva dall'assicurare prestazioni qualificate e specialistiche nell'interesse del bambino in questione. Infatti, il grande sforzo in una situazione come quella che stiamo attraversando attualmente, quindi di pandemia così grave, ci ha comunque permesso di assumere tre infermieri che si dedicano esclusivamente alla gestione del caso. L'impegno economico non è legato solo all'assistenza della persona, ma garantisce anche e comprende le spese per i presidi, i farmaci, i contributi economici della Regione, 1200 euro al mese, più l'identità di accompagnamento, la legge 104, che tutela i lavoratori nell'assistenza a familiari affetti a gravi disabilità. Inoltre, vengono erogati anche i ricoveri di soddievo presso strutture specializzate, idonee a gestire pazienti problematici, offrendo un valido soddievo alla famiglia. I bisogni del minore sono valutati da un'equip che con l'unità di valutazione multidisciplinare, UVM, compone il piano assistenziale e individualizzato appunto il PAI. L'equip per il caso specifico è composta dai seguenti professionisti sanitari, un pediatra, fisioterapisti, neuropsichiatria infantile, psicologo, infermiere, gastroenterologo, pneumologo, oculista, rianimatore per i trasporti specializzati in caso di emergenza. Recentemente il PAI è stato rimodulato, è stato accettato anche dalla famiglia, con soddisfazione di entrambe le parti. Grazie. Consigliere, parli dopo che le ho dato la parola, cortesemente. Per la replica le chiedo di stare veramente nei tempi perché prima l'ho fatto, visto l'argomento delicato... Può stare tranquilla, Presidente, può stare tranquilla. Se lei, Assessore, stesse un po' meno in Veneto e venisse in Umbria e venisse fisicamente a vedere queste situazioni, venga a vedere queste situazioni, venga a vederle direttamente e capisca se queste persone vivono una situazione realmente di privilegio rispetto alle altre regioni. Perché se questo è un problema anche sociale, perché qui stiamo parlando della famiglia, è sempre competenza sua. Sotto questo punto di vista, su questa situazione, io le posso assicurare che da parte della famiglia non c'è stato alcun tipo di accettazione remissiva di questa situazione. Perché attraverso un gioco semantico, la rimodulazione, invece che il taglio, voi avete tagliato il servizio di assistenza notturna, queste persone non riescono a dormire. Perché vivono all'interno, incastrate all'interno di questo tipo di situazione. Io, Assessore, le dico, io non posso accettare più che di fronte anche a situazioni simili si legga testualmente quello che è il discorsetto scritto che le viene fatto da LASR. Lei si deve assumere la responsabilità politica di venire a vedere situazioni di questo tipo. Perché noi dobbiamo farcene carico. Altrimenti lasciamo perdere, chiudiamo baracca e burattini, chiudiamo tutto. Se non ci facciamo carico di questo, se non andiamo a vedere se all'interno di questa regione c'è la reale e concreta necessità di spostare risorse per garantire a queste persone di poter vivere una vita normale, per quanto possa essere chiamata normale una vita simile. Dobbiamo farcene carico. Io, Assessore, la invito. Affrontiamo questa situazione all'interno della Commissione, perché competente, ma anche all'interno del Comitato. Abbiamo l'atto sulla non autosufficienza, ma queste questioni vanno affrontate. Vanno affrontate. Vanno affrontate.